benvenuti a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale ed un nostro nuovo video come al solito io sono gabriel io virillo oggi andremo a farvi vedere il nostro nuovo liquido vai virillo facci vedere allora si chiama crispy e liquidoso che ormai lo fumano tutti fragola e cereali cremoso abbastanza cremoso dovrebbe essere 80 20 o 70 30 ancora non lo leggo non c'è scritto però dovrebbe essere 80 20 secondo me sono quegli americani 80 20 belli da davidense da odiense allora abbiamo preso il nostro negozio di fiducia ricordiamo svapo caffè marina di cara moriciara e la spezia andate a trovare allora vai facciamo la prova di svapo io ho già drippato io gun e druga io con l'hammer e l'apocalypse resistenza 040 non spinge non scalda troppo però spinge però spinge bene vai gabri sia i cereali che la fragua si sente tutto è misciato benissimo all day all day non è come quelli vecchi eh però nuovo con la tpb un po' più blando 50 ml 0 nicotina un otto io ce lo do si lo merita si di tanta roba allora dalla tavena dello svapo è tutto ricordatevi che abbiamo il canale su instagram e su facebook mentre se seguire sempre la tavena dello svapo se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale ciao ciao